E' il nostro prossimo lavoro. Inizia a darmi un'occhiata. Tu tieni 48 ore, compa. Temma di porta-macher. E lì 100 milioni. Auntila, Yapila! Ti posso spiegare? Ti spiego tutto quanto. Aspetta un attimo, ti prego. Devi aiutarmi, Magia. Non sarò io a far scorrere altro sangue. Il mediettaro sangue, idda. I suoi zii sono puti, tutta razza di corapi. Voglio avere la soddisfazione principale della tomba. E non scorrere la faccia da terra. Sti infami. Avvocato piazza. Ora tu non vuoi spiegare perché stiamo facendo sta cazzo di guerra. Mi trovo costretto a chiedermi di restituire il favore. Papà, sono i cattivi quelli. I più cattivi di tutti.